Una biglietteria digitale per il trasporto pubblico regionale che permette di viaggiare su qualsiasi mezzo con un unico ticket pagato attraverso un'app. L'obiettivo è stato annunciato durante il convegno i trasporti a 360 gradi, un anno di sfide e un futuro di obiettivi che si è svolto a Palazzo Lombardia. Il presidente della regione Attilio Fontana e l'assessore regionale ai trasporti Franco Lucente hanno messo in evidenza gli investimenti nel trasporto pubblico e indicato come obiettivo una Lombardia sempre più smart e tecnologicamente innovativa anche e soprattutto nei trasporti. Abbiamo fatto grandi passi in avanti sia sul trasporto su gomma, su ferro ma anche sulla navigazione e vogliamo crescere andando ad essere sempre più competitivi con il resto d'Europa con la bigliettazione digitale, un percorso importante con la modifica anche della legge 6 che disciplina il mondo del trasporto pubblico locale e una serie di altri interventi anche per quanto riguarda la sostenibilità perché non c'è sostenibilità senza innovazione quindi adegueremo le flotte così come stiamo già facendo per quanto riguarda il ferro, la gomma ma anche i battelli per quanto riguarda il sistema lacquale. Un impegno importante ma lo porteremo avanti.